Musica Ben trovati amici di RTC, nuova puntata di RTC Scuola, siamo nel liceo classico Gallupi di Catanzaro con la preside, la professoressa Elena De Filippis e con la vicepreside, la professoressa Margherita Toraldo Buongiorno ad entrambe, oggi presentiamo due iniziative nell'ambito della stagione autunnale del Gutenberg questo progetto così importante di cui il liceo classico è capofila due appuntamenti per sabato 11 dicembre con Riccardo Pirrone, l'ironia della morte, analisi del fenomeno Taffo mentre il 15 dicembre in modalità remoto, in questo caso Luca Vullo presenterà l'Italia Segesta la comunicazione non verbale tra stereotipi, storia, lingua e cultura due appuntamenti molto interessanti, ne parleremo nel dettaglio con la professoressa Margherita Toraldo preside, si va a concludere questa edizione autunnale della Gutenberg che è tanto successo e insomma ha conseguito quest'anno numeri importanti, ragazzi che leggono sempre di più il liceo classico direi come abbiamo già detto con lei negli studi di RTC qualche giorno fa veramente capofila di questo progetto che ormai ha superato anche i limiti della regione, senza dubbio Io sono convinta che anche questo prosieguo del Gutenberg autunnale abbia confermato la sostanziale adesione emotiva e intellettuale dei nostri alunni a questo progetto che in qualche modo caratterizza oramai la storia del liceo e in qualche modo consolida le scelte che il liceo compie sul piano didattico e metodologico l'idea che il libro sia veramente il filo conduttore di tutta la loro esperienza all'interno della scuola veramente dall'autunno alla primavera e che si lavori in laboratorio di lettura e scrittura ora abbiamo anche un PON di cui la professoressa Toraldo è responsabile in cui noi realizziamo una lettura analitica dei testi insieme ai nostri alunni quindi una guida alla lettura e un laboratorio vero di interpretazione testuale bene, questa attitudine a mio avviso è la risposta ad ogni possibilità di pensare alla scuola come ad un luogo in cui altri linguaggi vengano privilegiati a quello della lettura e della scrittura noi siamo veramente convinti che quella sia la strada maestra D'altronde il Gutenberg è un laboratorio di lettura critica di libri animato sia dai docenti ma soprattutto dagli studenti Sì, i docenti in realtà sono quelli che selezionano insieme a noi i testi da proporre ai ragazzi che in qualche modo contattano gli autori, che organizzano il lavoro didattico quotidiano ma i ragazzi veramente rispondono in modo entusiastico e questa è una cosa che ci conforta molto Naturalmente all'interno di ciascuna classe c'è un gruppo forte di lettori che in qualche modo riesce a coinvolgere anche gli altri e i numeri non sono quelli della totale unanimità ma grossa parte del liceo aderisce davvero con gioia Grazie, professoressa Doraldo, sicuramente una proposta ambiziosa anche quest'anno è un tema che ha coinvolto ed entusiasmato Sì, quest'anno il tema principale da maggio è stato quello della fragilità che poi noi abbiamo cercato di ripercorrere anche nel mese scorso con questo Gutenberg d'autunno, con una serie di incontri che abbiamo avuto con autori come Affinati, Ricercatore Marco Gatto, Filosofi e abbiamo poi però voluto anche aprire come anche in passato questa iniziativa ad altre forme e quindi cercare anche di coinvolgere i ragazzi sul piano che attualmente allora è più gradito che quello anche dei social e quindi abbiamo pensato di proporre questi due incontri da una parte con un social manager che è Riccardo Pirrone che ha gestito quella che può essere la promozione di questa agenzia funebre con grande successo diventando un fenomeno proprio dei social e quindi visto che i ragazzi comunque hanno questa frequentazione continua con questi strumenti abbiamo pensato che anche da lì si potesse voglio dire togliere qualcosa di proficuo anche per la loro crescita intellettuale cioè scoprire come anche attraverso quegli strumenti si possa comunque elaborare un pensiero che dietro anche a quegli strumenti in molti casi ci sia un lavoro anche intellettuale anche molto sottile, molto intelligente, molto ironico come in questo caso infatti Riccardo Pirrone intitola anche questo libro Ironia della morte ecco proprio perché per diciamo parlare proprio della comunicazione attraverso i social in cui ecco nulla si improvvisa cioè anche lì c'è uno studio profondo e quindi anche per i ragazzi che vogliono accostarsi a questo mondo della comunicazione può essere comunque un modo per conoscerla meglio diciamo il nostro dialogo è basato proprio su quella che può essere la loro formazione critica e quindi da applicare non solo nel momento in cui vanno a leggere un libro di testo ma anche nel momento in cui digitano e consultano voglio dire quelli che possono essere altri strumenti e quindi anche nel momento in cui accedono alla rete soprattutto quando accedono alla rete però è anche un modo per far scoprire loro quello che c'è di buono quello che c'è di intelligente e poi l'altro incontro invece con Luca Vullo che è un regista, attore, insomma performer e sulla gestualità cioè come la comunicazione non verbale possa diciamo essere fondamentale anche per il successo e quindi siccome diciamo anche a questo proposito poi ci sono tanti stereotipi, luoghi comuni e allora anche questo ci sembrava che fosse voglio dire un discorso interessante ecco da proporre ai ragazzi ecco in alternativa ad altri argomenti che avevamo già comunque percorso, attraversato ecco nel sia a maggio sia nel mese scorso con l'altra parte del Gutebe d'autunno e quindi un'apertura diciamo intelligente anche a queste altre forme voglio dire di comunicazione Luca Vullo performer siciliano molto polietrico artista eclettico si racconterà e racconterà la sua esperienza Preside De Filippis quanto è soddisfatta dell'edizione di quest'anno del Gutenberg in base ai dati e ai numeri? Allora sono molto soddisfatta di questa edizione anche se il mio sogno è proprio di realizzare di nuovo un Gutenberg in presenza e il fatto che l'11 si torni a scuola è una cosa secondo me importante noi osserveremo tutte le regole le norme che in qualche modo garantiscano i nostri ragazzi di una sicurezza all'interno dei luoghi della scuola quindi saremo pochi e saremo distanziati ma il fatto che di nuovo con gli occhi e con la propria fisicità i ragazzi partecipino all'incontro è una cosa che veramente ci fa tornare ai tempi d'oro delle grandi manifestazioni di questa natura che abbiamo vissuto fino a due anni fa Eh sì, infatti lo dicevamo quindi sabato ribadiamo ancora una volta in presenza Salone Meduri Liceo Classico Galluppi dalle ore 10.30 alle ore 12 appuntamento con Riccardo Pirrone l'ironia della morte analisi del fenomeno Taffo mentre mercoledì modalità remoto 10.30 a 12 Luca Vullo l'Italia se gesta professoressa Toraldo vicepreside peraltro del Galluppi quanto hanno sofferto quanto hanno sofferto i ragazzi tale momento di distanziamento e di distanza fisica Certo hanno sofferto come hanno sofferto più di noi perché poi hanno sono stati tolti degli spazi che sono necessari anche per la loro crescita e proprio gli è stata impedita la socialità quindi ritornare in presenza e ritornare a scuola per loro è stato fondamentale anche poi per recuperare tutto ciò che non si è potuto comunque sviluppare a pieno a distanza nonostante la scuola sia stata sempre presente subito presente anzi la nostra scuola ha attivato subito quello che era l'insegnamento da remoto però naturalmente poi qualcuno si è perso qualcuno ha avuto difficoltà anche in questa comunicazione quindi quest'anno stiamo cercando anche un po' di porre riparo ai danni degli anni precedenti e il fattore emotivo è stato sicuramente qualcosa che voglio dire li ha assegnati questa questa perdita di contatto con l'altro questo isolamento e quindi riacquistare i momenti di socialità come può essere anche un incontro Gutenberg per loro sicuramente sarà importante anche se ripeto attraverso la modalità a distanza abbiamo cercato di creare sempre comunità di mantenere questo senso di essere con con gli altri però i danni ci sono e ancora le conseguenze le riscontriamo giorno per giorno sia dal punto di vista proprio didattico ma anche dal punto di vista psicologico con i ragazzi c'è grande attenzione anche da parte dell'USR dell'ufficio scolastico regionale nei confronti delle attività che state svolgendo uno specifico del progetto Gutenberg la nuova direttrice Ionti sì assolutamente sì e questa è una cosa che mi ha veramente riempito il cuore di gioia perché il fatto che lei abbia voluto partecipare a questa presentazione del Gutenberg d'autunno testimonia di un'attenzione e di una cura particolare nei confronti di questa esperienza la scuola calabrese è una scuola che ha risposto con grande con grande esolerzia alle necessità del momento e ha dei punti davvero straordinari di grande progetto attualità di grande capacità di rispondere alle esigenze dell'oggi ma anche in qualche modo di consolidare la formazione che è caratteristica della scuola italiana e la dottoressa Ionti ha apprezzato moltissimo questo progetto che come abbiamo già detto in qualche modo anticipa tutti i progetti intorno alla lettura che da otto anni a questa parte si svolgono in Italia e l'ha anticipato con grande magnanimità con un sogno che inizialmente addirittura il Presidente l'allora Presidente della Repubblica Ciampi considerò così esemplare da volere una presenza del Preside Vitale e degli animatori del Gutenberg del tempo al Quirinale quindi io credo che questa che questa presenza al nostro fianco garantisca il Gutenberg per gli anni a venire conservare più difficile che innovare a mio avviso è bello anche vedere che si è superato quello scoglio della tra virgolette passatevi il termine rivalità tra istituti scolastici perché ora si collabora sia tramite lo sforzo iniziale dell'ex dirigente scolastico dell'ex preside Vitale attuale Presidente dell'Associazione Gutenberg e poi della preside De Filippis che ha perfettamente proseguito tale percorso intrapreso e ora c'è grande collaborazione tra istituti scolastici il Gutenberg lo si vive lo si percepisce come progetto di tutti sì non solo ma abbiamo questa bellissima sezione che riguarda il Gutenberg ragazzi gestita dalla collega Rosetta Falbo in modo straordinario da anni e anni che in qualche modo crea questa filiera i ragazzi giungono qui che giungono qui hanno già partecipato sia nella scuola primaria che secondaria di primo grado al progetto Gutenberg che consente loro proprio di acquisire una metodica che poi qui consolidano e ampliano per certi versi noi non lasciamo quindi nessun segmento della scuola privo di questo di questo input addirittura nella scuola materna nelle ultime classi sono stati proposti dei libri naturalmente fondati sulle sulle immagini sulla creatività più pura per avvicinare i piccolissimi alla alla lettura e all'interpretazione anche solo delle immagini è stata una cosa veramente un po' particolare che ci è capitata fino ad ora andiamo a concludere sicuramente due appuntamenti che vanno a concludere appunto l'edizione autunnale del progetto Gutenberg di quest'anno volevo chiederla davvero in conclusione si pensa già alla prossima edizione? Sì ancora deve essere definito il tema sarà sarà un'edizione che ancora riflette sulla fragilità sulla fragilità dell'uomo e credo che questo sia necessario ancora stiamo ancora mettendo a punto la non solo tematica di fondo ma la possibilità di creare una tessitura che completi l'itinerario di quest'anno c'è un filo rucci insomma no? sì certo anche se infatti già stiamo leggendo e valutando che cosa puoi proporre nella prossima edizione quindi siamo già al lavoro e quanto sono propositivi i ragazzi su questo fronte? i ragazzi sono coinvolti nel senso che anche in passato abbiamo cercato di coinvolgere ora cercheremo di farli partecipi sempre di più anche di possibili scelte che possono essere a loro anche più voglio dire più gradite anche in questi laboratori di lettura di cui parlava la preside si si lavora anche in questa prospettiva in maniera tale da poter evidenziare qualche titolo qualche autore su cui loro amano lavorare che sia loro più confacente e quindi i ragazzi sono comunque coinvolti certo poi in base anche poi a quelle che sono le loro proposte anche le loro proposte vengono sempre valutate e poi bisogna sempre vedere quanto siano disponibili gli autori che non sempre è facile poter coinvolgere nell'iniziativa quindi ci sono tanti momenti nell'organizzazione che anche abbastanza impegnativi ecco perché poi devo dire che c'è grande disponibilità ecco abbiamo incontrato però molte volte coincide semmai il Gutenberg con altri impegni che loro hanno già preso e quindi poi diventa difficile qualche volta poter avere certo poter contattare tutti gli autori però i ragazzi sia sono protagonisti perché sono loro poi a condurre comunque gli incontri al di là della nostra diciamo guida sono loro che si confrontano direttamente e criticamente con anche in questi ultimi questi ultimi incontri che abbiamo fatto sono stati proprio loro protagonisti consapevoli e protagonisti probabilmente sono le due parole chiave probabilmente certo sì ma infatti l'obiettivo è quello di uscire fuori dalla quella che può essere l'attività didattica quotidiana e di non perdere mai ecco il contatto con con la lettura con i libri e spingere questi ragazzi a a formarsi e a formare questo senso critico e penso che in molti casi ci riusciamo ecco da quello che poi anche il riscontro che abbiamo con i diversi docenti gli interlocutori che abbiamo coinvolto che sono rimasti veramente colpiti dalla dalla capacità anche dei dei ragazzi e quindi di questo ne siamo felici la consapevolezza credo che sia fondamentale decisiva determinante imprescindibile per il futuro dei ragazzi buona parte di essi in questo istituto nel liceo classico Gallupi l'hanno raggiunto e quindi credo che l'obiettivo sia centrato sì sì l'obiettivo è stato centrato e non solo la consapevolezza ma loro hanno acquisito una sicurezza una sicurezza innanzitutto espressiva loro utilizzano un lessico estremamente forbito e puntuale e questo serve loro sempre nella vita il fatto di vincere anche la ritrosia di interloquire con i mostri sacri della cultura italiana europea e anche e anche oltre l'Europa fino ad ora ha dato loro il modo di veramente confrontarsi e cimentarsi in settori in cui naturalmente nelle scuole non sempre questo avviene o può avvenire è una bella occasione è stata una bella occasione finora per loro un'occasione che noi terremo stretta ancora per il tempo che verrà allora io ringrazio la preside De Filippis la professoressa vicepreside Toraldo per essere stati qui con noi quest'oggi abbiamo presentato questi due appuntamenti sabato 11 dicembre nel salone Meduri del liceo classico Galluppi Catanzaro Riccardo Pirrone l'ironia della morte analisi del fenomeno Taffo mercoledì 15 dicembre Luca Vullo l'Italia Segesta questa volta in modalità remoto grazie ancora grazie a lei e grazie ancora RTC per la sua vicinanza grazie grazie e arrivederci alla prossima puntata di RTC Scuola grazie grazie